Ciao, il sole sta tramontando qui sull'oceano atlantico e vorrei proporti uno spunto. Quando il sole tramonta, segna la fine di una giornata. Ogni fine della giornata sarebbe molto interessante che tu ti permettessi di fare un'analisi di ciò che hai creato, un'analisi di ciò che hai vissuto, di come hai agito, pensato, di come ti sei comportato. Perché ogni giorno ti porta a creare giorno dopo giorno, dopo giorno dopo giorno, tutta la tua vita. Quindi se ogni sera dopo il tramonto tu ti permetti di osservare che cosa hai realizzato durante quella giornata, potrai osservare ciò che ti è piaciuto, ciò che non ti è piaciuto, ciò che ripeteresti, ciò che miglioreresti, ciò che lasceresti andare completamente. Questa piccola e semplice analisi ti permetterà di creare ogni giorno qualcosa di più congruente con ciò che senti buono per te. E questo sarà un piccolo aiuto per creare veramente una vita che ti assomiglia e che trovi appagante e congruente con quelle che sono le tue aspettative, i tuoi sogni e ciò che senti buono per te e per il tuo cuore. Ciao, ti abbraccio!